Ora parliamo invece dei sistemi multipli. Una grandissima parte, se non addirittura la maggior parte delle stelle, non è da sola nel suo sistema, ma condivide il sistema con una o più compagne, e sono i famosi sistemi multipli. Nei film di fantascienza abbiamo visto questi pianeti con due soli nel cielo, in realtà esistono pianeti con tre, quattro, anche cinque soli nel cielo, quindi ci sono sistemi fatti da più oggetti, e questi hanno un destino diverso durante la loro vita. Intanto vediamo come sono fatti. La maggior parte delle stelle della nostra galassia ha delle compagne, legate a causa della gravità in orbita intorno a un centro di massa comune. Quindi gli scenari visti nei film di fantascienza con questi pianeti che hanno due soli nel cielo sono più che possibili. Queste stelle obbietano intorno a un varicentro comune, e spesso dalla Terra è possibile individuarli quando si eclistano a vicende, quindi la luminosità del sistema diminuisce o aumenta, e possono ospitare un pianeta stabile, perché se due stelle sono molto vicine, il pianeta può avere un'orbita stabile intorno al varicentro comune, quindi abbiamo sistemi multipli con pianeti. I sistemi multipli si possono distinguere in quattro categorie principali. Abbiamo quando gli oggetti hanno massa simile, e quindi il varicentro del sistema è praticamente a metà delle distanze dei due oggetti. Quando invece un oggetto è molto grande e un altro è molto piccolo, come ad esempio la Luna e la Terra sono un sistema doppio di un oggetto molto grande e uno piccolo, e abbiamo che l'oggetto grande oscilla poco rispetto a quello piccolo, perché il varicentro del sistema è dentro l'oggetto grande. Poi abbiamo un sistema con masse diverse, ma non così tanto, il varicentro non è all'interno di nessuno delle due, però comunque sia l'oggetto più grande compie un'oscillazione minore. E infine invece abbiamo sistemi complessi, addirittura con quattro oggetti, quindi vediamo una condizione più dinamica e più complessa, e ovviamente il varicentro si trova nel centro di massa di tutto questo sistema qua. Le stelle multiple subiscono le conseguenze della convivenza, compresa la fase post-stellare. Quando una delle due stelle esaurisce il suo combustibile, si trasforma in base alla massa in ana bianca, stella neutroni o un buco nero, influendo inevitabilmente sull'evoluzione della stella compagna. Infatti immaginiamo che una delle due stelle diventi un buco nero, la stella compagna potrebbe essere cannibalizzata tramite un gigantesco effetto marea, che sottrae dalla superficie materia e va a alimentare un disco di accrescimento intorno al buco nero. Il buco nero è molto più piccolo della stella compagna, ma comunque sia potrebbe avere una massa paragonabile, e quindi il varicentro trova in mezzo a questo sistema. Abbiamo ancora il caso invece di una nana bianca come stella compagna. Infatti, quando è la nana bianca ad attrarre il materiale, questa può raggiungere una massa critica che innesca delle reazioni, e possono essere di due tipi, nove o supernove. Vediamo il primo caso, le nove. Nei sistemi binari in cui una delle due stelle si è evoluta in una nana bianca, l'accrescimento di materia della stella compagna può portare a episodi di emissioni violenti di energia, che vengono chiamate nove. Qui abbiamo praticamente che si accumula abbastanza energia, per cui solamente in superficie si innescano i processi di reazione nucleare dell'idrogeno, e abbiamo un'espulsione solamente superficiale. Queste sono periodiche perché sono solamente superficiali. La massa critica che innesca le nove è sempre la stessa in tutto l'universo, e quindi la luminosità è sempre la stessa. Confrontando la luce che vediamo dalla Terra con quella che sappiamo essere, perché è uguale per tutte, possiamo usarle come canale di compione, però per oggetti all'interno della nostra galassia, non troppo lontani, ma comunque sia, sono nove. Invece, se vediamo le supernove, le supernove avvengono quando invece le nane bianche, che sono sempre sistemi binari, accumulano molto più materia, superano la massa critica di 1.44 masse solari, e in quel punto innescano la combustione del carbonio che sta dentro la nana bianca. In quel caso l'esplosione è talmente forte che tutta la stella viene distrutta, e quindi questo fenomeno avviene una volta sola, perché poi non c'è più la stella che la genera. E che cosa succede? Succede praticamente che sono talmente potenti che possono essere viste anche in galassie lontane. Questa supernova viene definita di tipo 1. Questa è la supernova di tipo 1, che è stata vista nel 1994, infatti è catalogata come 1994d, e fu localizzata nella galassia NGC 4526. Anche questa supernova era di tipo 1, e quindi praticamente si conosceva la sua luminosità intrinseca, e confrontando la sua luminosità intrinseca con quella che veniva osservata con i telescopi, è stato possibile calcolare la distanza reale di questa galassia. Quindi questi oggetti che sono più luminosi vengono utilizzati per misurare le galassie. Sono importanti i cannelli di campione, perché avvengono sempre quando una nana bianca assorbe talmente tanto materiale da superare la massa critica, e quindi l'esplosione è sempre della stessa entità. E quindi possiamo distinguere due tipologie di supernovae, supernovae di tipo 1 e supernovae di tipo 2. Nella supernovae di tipo 1 abbiamo l'esplosione di una nana bianca che supera il punto critico di Charsec, che è 1.44 masse solari, e quindi viene distrutta totalmente. Invece le supernovae di tipo 2 sono le supernovae che si formano quando esplode una stella con massa superiore a 9 volte quella del Sole, abbiamo già visto nelle strade precedenti. Questo è solamente un estratto della mia lezione. Nella lezione completa parlerò di come funziona una stella, ovvero dell'equilibrio che c'è tra la forza di cavità che tende a comprimerla e la forza nucleare che tende a espanderla, delle dimensioni delle stelle, cioè tutte le tipologie di stelle che ci sono, quelle del Sole, quelle più grandi del Sole come Sirio, quelle ancora più grandi come Tacarine, e quindi vedremo che dalla dimensione di una stella dipende anche l'età della stella che può raggiungere o la sua longevità, o qualsiasi elementi chimici che può produrre l'unico sintesi stellare. Parlerò ovviamente della classificazione delle stelle in base alla temperatura e al colore, degli elementi chimici che si sono formati durante la loro vita, quindi noi siamo fatti di sostanze chimiche composte nella fase finale delle stelle, e parlerò anche dei sistemi multipli, di come dovrebbe essere un sistema con due o più soli. Potete trovare tutta la lezione completa e tutto il corso completo di astronomia sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook Prof. Antonio Lugliacono. Grazie.